Novantanove. Novantanove. Genitive. Genitivo. Genitivo. My girlfriend's cat. La gatta della mia amica. La gatta della mia amica. My boyfriend's dog. Il cane del mio amico. Il cane del mio amico. My children's toys. I giocattoli dei miei bambini. I giocattoli dei miei bambini. This is my colleague's overcoat. Questo è il cappotto del mio collega. Questo è il cappotto del mio collega. That is my colleague's car. Questa è la macchina della mia collega. Questa è la macchina della mia collega. Questo è il lavoro dei miei colleghi. Questo è il lavoro dei miei colleghi. Il bottone della camicia si è staccato. Il bottone della camicia si è staccato. La chiave del garage si è persa. La chiave del garage si è persa. Il computer del titolare è guasto. Il computer del titolare è guasto. Chi sono i genitori della ragazza? Chi sono i genitori della ragazza? Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? La casa è in fondo alla strada. La casa è in fondo alla strada. Come si chiama la capitale della Svizzera? Come si chiama la capitale della Svizzera? Qual è il titolo del libro? Qual è il titolo del libro? Come si chiamano i bambini dei vicini? Come si chiamano i bambini dei vicini? When are the children's holidays? Quando sono le vacanze estive dei bambini? Quando sono le vacanze estive dei bambini? What are the doctor's consultation times? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? What time is the museum open? Qual è l'orario di apertura del museo? Qual è l'orario di apertura del museo? Qual è l'orario di ambulatorio del museo? Qual è la tua situazione?